Ruspe in movimento, sono iniziati i lavori di pulizia dell'area di corso Europa a Cantù per la realizzazione del nuovo palasport della città del mobile. Si tratta del terzo tentativo, il primo nel 1991 con il Palababele rimasto incompiuto e poi abbandonato per anni. Seconda inaugurazione nel 2013 con il Palaturra sulle cui ceneri oggi dovrebbe sorgere la nuova arena di Cantù. Vediamo già le Ruspe al lavoro, cosa si inizia a fare oggi? Oggi iniziamo a mettere in sicurezza l'area, attività propiedetiche, quindi recinzione, videosorveglianza e pulizia verde e successivamente incomincieremo con la fase di demolizione e frantumazione. Fino poi ad aspettare le attività operative vere e proprie. Quindi a quando la posa della prima pietra possiamo dire? Per noi da fine aprile, maggio, diciamo nel mese di maggio dovremmo cominciare con le attività reali. L'opera incompiuta del palazzetto di Cantù rappresenta uno dei più grandi scandali di edilizia pubblica degli ultimi 40 anni, sicuramente il più grande della provincia di Como assieme a quello della Ticosa. Questo è purtroppo stato un problema che ha accompagnato il comune di Cantù per 30 anni. Io lo ripeto sempre, io quasi andavo alla scuola, alla scuola elementare, quando abbiamo iniziato ad avere a che fare con questo cantiere. So che ci sono ancora tanti canturini scettici che non ci credono. Io spero che con oggi, anche se davvero non è la conclusione ma è solo l'inizio, che con oggi ci sia un po' più la percezione della concretezza del lavoro che è stato fatto, perché è stato fatto davvero con tanto tanto impegno, volontà e desiderio di riscatto per Cantù. L'obiettivo in cui credete è finire i lavori entro due anni? Sì, per la stagione 2026, come ha spiegato il capo cantiere, noi ci crediamo e perché no, perché non dovremmo crederci. La speranza è che nel 2026 si possa aprire la stagione con Palla Canestro Cantù, Acqua San Bernardo in Serie A. Nessuna inaugurazione in grande stile oggi per la partenza dei lavori. La storia passata ha infatti insegnato quanto sia necessario avere un po' di sensata prudenza. I canturini attendono quest'opera da oltre 30 anni. Una prima briciola di soddisfazione, perché poi chiaramente, soprattutto sulla storia di questo palazzetto, sappiamo che la soddisfazione dovrà per forza essere alla fine, non certo adesso, che, come dicevo, è un primo passaggio dalla carta al cantiere. Prossime tappe burocratiche, la sottoscrizione dell'accordo di programma con Regione Lombardia per il finanziamento di parte dell'opera, che negli anni ha visto lievitare i costi di realizzazione fino a raggiungere i 40 milioni di euro, e la validazione del progetto esecutivo. Stiamo lavorando su due squadre, quindi la squadra che inizia oggi sulla parte costruttiva di demolizione, e invece la squadra progettuale sta continuando il suo lavoro per arrivare entro maggio con la consegna del progetto esecutivo, che poi dovrà essere validato, e una volta validato potremo partire con la parte di costruzione vera e propria. Grazie a tutti i nostri spettatori,